Una strada sterrata, a doppio senso di marcia, ma stretta da consentire a stento il passaggio di un mezzo, con accanto un torrente dagli agini in più punti franati. È vero percorso a ostacoli che devono affrontare e da anni per spostarsi di casa residenti in via Lungostella a Pistoia in zona Bargi. Vittime di questa situazione sono una decina di famiglie che vivono in punti diversi della strada che oltre a essere lunga, come suggerisce il suo nome, in condizioni oggettivamente pietose persone che raccontano come la strada peraltro sia già stata dichiarata inagibile dal genio civile. Noi che tutte le mattine andiamo al lavoro e comunque anche durante il giorno ci dobbiamo spostare per tanti motivi, ci troviamo su una strada piena di buche, oltretutto con tantissimi sassi e quindi spesso riportiamo danni a braccetti, alle gomme, alle sospensioni, senza contare che l'argine in diversi punti ha ceduto e di conseguenza se ci si trova in due macchine che ci si deve scambiare e ci si deve accostare il più possibile per permettere lo scambio, si vive nel terrore che è una parte d'argine frani e si finisce dentro il fiume Stella. Io ho parlato in comune con l'assessore Bartolomei che riguarda questa strada che purtroppo è in condizioni disastrate, io ci ho avuto già un paio di incontri, prima mi dicevano siccome io sto dalla parte di là della Stella che non era del comune, poi si è fatto delle verifiche e invece è comunale, poi me lo dicevano anche delle famiglie lì accanto a me, dice che questa strada la vogliono chiudere, il genere civile, però lavori non ce ne vogliono fare. Intervengono con lavori che lì per lì possono andare bene perché comunque coprono le buche e la strada diventa più agibile, solo che sono interventi che alla prima acquata o il continuo passare di mezzi grossi come trattori e come camion, praticamente dopo poco tempo ributtano all'area il lavoro che è stato fatto e dopo 15-20 giorni, dipende appunto dal tempo, è come se non fosse stato fatto assolutamente niente. A Natale è cascato un vicino di casa che abita qua all'interno della Stella e un altro, il mio suocero, è ribaltato mentre veniva a casa dall'altra parte dell'argine a causa del dissestamento della strada. Oltretutto ci sono finiti dentro molti motorini e ci sono state molte problematiche riguardante la strada, a parte i danni all'auto e quant'altro.